buongiorno a tutti ragazzuoli oggi vi porto un video che secondo me può essere interessante per tantissima gente infatti per questo vi chiedo cortesemente anche per supportare il canale di condividere questo video ai vostri amici che sapete magari sono interessati un po il mondo della finanza personale dell'economia in generale se avete piacere di supportare il canale se no non vi preoccupate parto col dirvi secondo me qual è la definizione corretta di passive income oppure rendite passive le rendite passive vi lascerò anche magari qua in superimpressione la definizione magari di wikipedia ma cerco di spiegarvelo un po più a parole facili e semplici le rendite passive sono semplicemente ciò che entra nel nostro portafoglio senza che noi effettuiamo un lavoro continuativo vi faccio un piccolo esempio per spiegarvelo meglio se io creo un video youtube il lavoro lo effettuò ora quindi ci metto quelle tre quattro ore per creare il video lo carico su youtube il mio lavoro termina lì e io verrò pagato costantemente ogni volta che qualcuno visualizzerà qualche video cioè visualizzerà qualche pubblicità all'interno dei miei video quindi non è un vero e proprio lavoro normale perché il lavoro normale di solito prevede che a fronte di un servizio ci sia un compenso immediato oggi vi spiego secondo me quali sono sette tipi di rendite passive che possono essere abbordabili a tutti quindi se avete piacere di avere delle rendite passive oltre il vostro lavoro principale potete seguire questo video qua e fatemi sapere anche magari nei commenti quale di questi sette vi può piacere di più la prima tipologia di passive income che è anche tra l'altro quella che mi piace di più è il dividendo ovvero una porzione di utile delle società che viene distribuita agli azionisti vi faccio un piccolo esempio se io detengo un'azione di coca cola se il management di the coca cola company sceglie di distribuire per quanto riguarda questo esercizio qua parte degli utili magari trimestralmente io che sono un azionista riceverò una piccola percentuale in proporzione alle azioni che ho mi pare che ora il dividend yield ovvero il rendimento di un'azione coca cola mi pare sia intorno al 3 per cento non sono sicuro magari poi sovrimpressione ve lo lascio vuol dire che se io compro un'azione coca cola a 50 euro vuol dire che dovrei in teoria ricevere un dollaro e 50 lordi all'anno ovviamente coca cola distribuisce gli utili trimestralmente quindi non riceverò un dollaro e 50 una volta sola ma riceverò un dollaro e 50 all'interno di tutto l'esercizio ma suddiviso in quattro porzioni ovvero ogni trimestre in teoria per ogni azione a meno che ovviamente il management decida di non distribuire gli utili quindi quello che sto cercando di fare io è cercare ovviamente di crearmi un portafoglio azionario di azioni che appunto distribuiscono i dividendi purtroppo non tutte le società distribuiscono i dividendi alcune ad esempio amazon decidono di reinvestire gli utili quindi non e quindi non distribuiscono i dividendi ma non è detto che un'azione da dividendo sia effettivamente migliore di un'azione non da dividendo quindi per ricapire amazon è sicuramente stata meglio di coca cola ad esempio negli ultimi cinque anni e coca cola distribuisce i dividendi amazon no sono scelte del management quindi non fatevi non fateci troppo caso per scegliere quali azioni comprare valutate se vi può piacere una determinata società se da il dividendo è una cosa magari positiva in alcuni casi e negativa in altre quindi non basatevi solo su quello la seconda tipologia di passive income è la royalty ovvero delle piccole entrate che una persona può avere di fronte magari ad un diritto ad esempio quello d'autore quindi se voi che ne so caricate create una canzone la caricate su spotify ogni volta che quella canzone lì verrà riprodotta spotify vi riconoscerà una piccola percentuale questo non è una passive income che ho io ad esempio quella dei dividend è una passive income che ho io però secondo me può essere utilissima per tanti ragazzi magari che sono interessati al mondo della musica magari creano magari non canzoni però creano dei beat che se vogliono caricare su spotify hanno sapete che avete la possibilità di essere remunerati avere una rendita passiva di fronte a un vostro magari piccolo lavoretto quindi vi consiglio sempre di cercare di monetizzare quelle che sono le vostre passioni la terza tipologia che secondo me anche una buonissima tipologia è il link amazon link affiliato amazon ad esempio qua sotto vi lascerò in descrizione il link alla mia attrezzatura e il link soprattutto che secondo me è una cosa veramente interessante è il link a la prova gratuita di amazon prime alla prova gratuita di amazon kindle e anche la prova gratuita ad amazon music che sono per voi 30 le gratuite ma che supportano il canale gratuitamente quindi se avete piacere di supportare il mio canale potete farlo tramite quelli link lì perché per chi non lo sapesse amazon ha dato la possibilità ai creatori di contenuti di fare un accordo che si chiama programma di affiliazione quindi tutte le volte che un fan di un creator compra un determinato prodotto linkato dal creator garantirà una piccola percentuale appunto all'influencer quindi se comprate una macchina fotografica che costa all'incirca 500 euro voi garantirete un mi pare circa il 3 per cento di commissione all'influencer ma a voi il costo rimarrà sempre lo stesso all'influencer invece amazon garantirà questo piccolo percentuale su cui ovviamente poi l'influencer dovrà pagare le imposte sopra quindi IRPEF e INPS quindi non pensate che sia effettivamente il 3 per cento di quello che pagate ma all'incirca alla fine verrà un 1 per cento quindi se voi comprate una macchina fotografica da 500 euro alla fine l'influencer riceverà circa 5 euro che supportano il canale a voi ovviamente non costa nulla anzi è semplicemente una percentuale che togliete ad amazon e la date ad una persona che magari ne ha più bisogno questa è la mia opinione poi fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti magari la quarta tipologia di passive income è il peer to peer lending ho fatto un video riguardo sulla mia piattaforma personale preferita ovvero bond ora vi invito cortesemente a andare a guardarla perché viene spiegato dettagliatamente di cosa si tratta e anche in descrizione avete un link che vi permette di ricevere 5 euro di bonus nel momento in cui iniziate a investire vi spiego brevemente cos'è il peer to peer lending il peer to peer lending è semplicemente un prestito che una persona privata fa ad un'altra persona privata ad esempio sapete che un vostro amico ha bisogno di 50 euro e dite ti presto 50 euro ma tu tra un anno anziché darmi le 50 me dai 55 ovvio che se si tratta di un amico non è che volete magari l'interesse però se quella somma la date ad una persona che magari non conoscete avete piacere appunto che vi dia un interesse visto che l'interesse è sempre correlato al rischio e qua intervengono le piattaforme di peer to peer lending che semplicemente sono degli intermediari finanziari che uniscono i due soggetti uno in avanzo finanziario e l'altro in disavanzo finanziario quindi un soggetto che ha bisogno di soldi ha la possibilità di richiederli su queste piattaforme qua e questi soldi qua verranno presi appunto da un soggetto che non ne ha bisogno ma che ha deciso di investirli lì sopra quindi voi riceverete una piccola percentuale di guadagno la piattaforma che è bondora riceverà anch'essa una piccola percentuale di guadagno che sta tra la differenza il testo di interesse che danno al soggetto in avanzo finanziario e il soggetto in disavanzo finanziario quindi questa piccola spiegazione ma vi consiglio però di andare a vedere il video che ho fatto su bondora dove vi spiego tutto dettagliatamente quindi se avete piacere di guardarlo fatemelo sapere che magari farò anche più video anche su piattaforme di peer to peer lending italiane la quinta tipologia sono i link affiliati per chi non lo sapesse oltre ad amazon ci sono tantissime piattaforme che offrono link affiliati perché a mio modo di vedere ma anche da quello che vedo dall'azienda è il miglior metodo per crescere è anche il metodo meno costoso perché di fatto hai la sicurezza che paghi l'influencer in base a ciò che riesce a vendere o a propinare ai propri fan ad esempio se la nike decide di fare un'affiliazione ovviamente la nike è un'azienda talmente grande che non ha bisogno di affiliazioni con influencer però è un piccolo esempio che vi faccio se la nike venisse da me e mi dicesse guarda ti dobbiamo la possibilità di pubblicizzare i nostri prodotti e ti garantiamo un 5% per ogni acquisto effettuato dal tuo link in quel caso lì io cos'è che farei? vi fare magari una storia su instagram oppure un video dove magari recensisco le scarpe della nike e vi dico ovviamente devo esplicitare il fatto che si trattano di link affiliati perché le regole prevedono questo quindi se so che magari alla mia nicchia può interessare quella determinata scarpa della nike vi dico avete la possibilità di utilizzare questo codice sconto qua magari del 5% utilizzando il mio link o il mio codice sconto in quel caso lì ci guadagnerebbe la nike che riesce a vendere un prodotto ci guadagnerei io che ricevo una piccola prentuale magari del 5% e ci guadagnerebbe anche il fan che ha uno sconto del 5% quindi sarebbe una situazione win to win to win quindi secondo me è il metodo di marketing migliore ed è anche il metodo che stanno utilizzando tutte le nuove aziende per crescere la sesta tipologia è una tipologia che vi ho già spiegato ovvero il diventare youtuber io penso che youtube sia una bellissima piattaforma è molto difficile crescere non ve lo dico molto scrittamente io faccio video da circa 6 anni e sono in negativo totalmente ma io l'ho sempre presa come una passione sto cercando di trasformare questa passione qua in un lavoro però penso che effettivamente youtube sia lo strumento che permette a qualsiasi persona di crearsi il suo pubblico di crearsi un lavoro dal nulla e quindi penso sia davvero una bella piattaforma se utilizzata bene io sto cercando appunto di trasformare questa passione qua in un lavoro ovviamente ho un altro lavoro perché sono a 22 anni non potrei mantenermi con le entrate con youtube perché sono veramente irrisorie però sto cercando di evolvere il mio canale e trasformarlo in un canale che può portarmi delle rendite passive per chi non sapesse il perché youtube può considerarsi una rendita passiva ve lo spiego brevemente perché se io carico un video ora e quel video lì il mio lavoro è finito oggi faccio magari tre ore per registrare un video editarlo e montarlo e caricarlo il mio lavoro finisce qua se il video viene visualizzato tra due anni io riceverò l'entrata anche se anche se il mio lavoro è stato effettuato due anni prima e si è terminato lì e ogni volta che verrà visto prenderò una piccola percentuale quindi dei piccoli centesimi secondo me è una bellissima piattaforma se avete piacere di sapere quanto ho guadagnato vi lascio magari anche il link in descrizione nel video in cui vi mostro quanto ho guadagnato nei cinque anni che ho fatto lo youtuber quindi se avete piacere mi pare sia un video che ho caricato i primi di aprile comunque vi lascerò sicuramente il link in descrizione o il link a fine video l'ultimo metodo che secondo me è un altro bellissimo metodo è Google AdSense che è semplicemente ciò è semplicemente la piattaforma che permette ai youtuber di guadagnare tramite le pubblicità ma è anche la piattaforma che permette a tutti i blogger o qualsiasi persona che ha siti internet di ricevere delle piccole percentuali da Google appunto perché Google AdSense è una piattaforma di Google tramite le pubblicità ad esempio se voi sapete scrivere dei begli articoli se avete magari un interesse ad esempio sulla tecnologia sapete che potete aprire un blog gratuitamente magari su Alter Vista, Wix o magari pagando semplicemente un dominio vostro potete aprire un piccolo blog che poi quando vedete che ha magari successo o avete quelle top visite al giorno sapete che potete fare il collegamento su Google AdSense inserire dei piccoli banner pubblicitari all'interno dei vostri articoli e guadagnare su quelle impressioni che i lettori faranno all'interno dei vostri articoli questo secondo me è un bellissimo metodo la cosa che mi piace tantissimo di queste sette rendite passive è il fatto che sono abbordabili a tutti prima cosa seconda cosa possono essere veramente una grossa fonte di guadagno se le si riesce a fare bene e non dite trovati un lavoro vero questi qua non sono tipi di lavoro se una persona uno ci dedica tempo e due è capace a farlo può essere veramente un gran lavoro e un'altra cosa che mi piace tantissimo è il fatto che tutte queste cose qua possono nascere dal nulla questa è una bella cosa potete partire dal zero dal niente forse solo l'unica cosa che richiede un po' di capitale è l'intrata passiva derivante da dividendi perché è ovvio che se riuscite a ricevere magari quel 4-5% di dividendi dal vostro capitale scusami avete fatto un buon lavoro l'unica cosa è che ovviamente il 4-5% sono poi 4 euro su 100 euro investiti 40 euro su 1000 investiti quindi e tra l'altro sono lordi doveste pagare ancora il 26% di tasse quindi sicuramente per i dividendi ci vuole un capitale molto elevato però penso che siano un buon metodo di rendita passiva quello che consiglio io è magari sfruttare le 6 le 6 tipologie finali per crearvi un piccolo portafoglio di soldi da investire in dividendi quindi di fatto sarebbe un circolo una ruota che continua a girare voi tutte le entrate magari che fate dalle altre 6 tipologie di rendita passiva ad esempio royalties amazon links peer-to-peer lending links affiliate video su youtube e google adsense potete reinvestirli in dividendi se ovviamente avete le conoscenze finanziarie appropriate perché sennò state buttando semplicemente il vostro tempo prima di lasciarvi però vi chiedo curiosamente di fare due cose uno di andare a vedervi il video su bondora che è molto interessante due di andare a vedere il video sui miei guadagni su youtube che anch'esso è molto interessante vi dà una panoramica su quelle che possono essere le entrate di un youtuber tre di provare se avete piacere le prove gratuite di amazon quindi amazon music amazon killoo e amazon prime che sono tutte e tre gratuite ma mi supportano in modo totalmente gratuito se avete piacere trovate tutto in descrizione raga io spero che questo video vi sia piaciuto vi lascerò un bel like un commento e niente raga ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao